Ci sono sfide che non puoi affrontare da solo. Devi farlo in team. Guardare tutti nella stessa direzione. Essere costantemente in contatto. Solo così potrai mantenere il controllo. E pensare sempre più in grande. Nuova BMW Serie 5 Touring. Scoprite la massima espressione della tecnologia BMW. Il 20 e 21 maggio. Il 20 e 21 maggio.